Per me che sono abruzzese è tornare a casa, ma anche per loro ormai, ormai anche per loro l'Abruzzo è casa come per me il Salento è casa e siamo molto felici di essere qui e di essere stati scelti. Soprattutto balla, perché noi viviamo, perché ci piace la vita e amiamo la vita, ascoltiamo perché siamo dei musicisti, balliamo e facciamo ballare, quindi la nostra presenza è un onore per noi e soprattutto penso che sia anche azzeccata.